Appuntamento significativo per la Banca Montepruno e la comunità di riferimento sabato 25 novembre alle 16.30 a Roscigno, con il taglio del nastro e l'inaugurazione dei nuovi spazi dell'immobile che ospita la sede legale dell'Istituto di Credito Cooperativo. La sede in via 4 novembre, infatti, è stata oggetto negli ultimi mesi di lavori di ristrutturazione per migliorarne la fruizione, garantendo un'ottimizzazione degli spazi con un adeguamento del livello di privacy. Inoltre, presso la sede di Roscigno c'è anche un nuovo ATM Bancomat che permetterà di operare anche al di fuori degli orari di sportello con maggiore sicurezza e velocità. Le novità della sede di Roscigno si completano con altri due interventi molto rilevanti, la creazione di un'area espositiva museale dal titolo La nostra storia, le nostre radici, che oltre a ripercorrere tutte le aperture degli sportelli della banca, propone un'esposizione fotografica delle personalità e dei momenti più significativi che hanno caratterizzato i più di 60 anni di storia della BCC. Il secondo piano poi ospiterà la sede della Fondazione Montepruno con una sala riunioni rinnovata e uffici dedicati. È stato un intervento molto impegnativo, hanno dichiarato il presidente Anna Miscia e il direttore generale Michele Albanese, ma che sentivamo di fare per i soci e i clienti che si servono della sede di Roscigno e dei suoi uffici. È un territorio che già soffre tanto per diverse ragioni, ma il nostro impegno è quello di mantenere sempre viva la speranza e onorare al meglio le nostre origini, in senso di riconoscenza verso quelle 30 persone che da Roscigno fecero nascere questa grande realtà unitamente a tutte quelle che, via via, si sono aggiunte contribuendo con spirito di cooperazione e amore per il territorio. La sede di Roscigno sarà un luogo dove rimarrà indelebile il segno della storia e del ricordo verso figure indimenticabili. Il presidente Miscia e il direttore Albanese hanno poi spiegato che nei giorni successivi all'inaugurazione saranno avviati anche i lavori per il restyling della sala assemblee della sede di Roscigno, che diventerà un auditorium intitolato al compianto presidente Michele Albanese.